d'acqua del territorio. L'intera area e le comunità presenti, prosegue il documento, ne trarranno benefici in termini di difesa dall'inquinamento del mare per il presente e per il futuro. Il progetto si avvale dei fondi regionali concessi al Parco Marino Riviera dei Cedri nell'ambito del sistema di contabilità ambientale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Parco, Palmiro Manco. Viene premiata una precisa scelta di indirizzo in difesa della natura, afferma Manco, e i soggetti coinvolti hanno messo a disposizione il loro impegno e la propria competenza. Il tutto, conclude, per il perseguimento degli obiettivi di funzionalità del Parco in modo da farne un ente modello virtuoso e che mira soprattutto alla valorizzazione del territorio. La crisi delle terme luigiane di Guardia Piemontese sarà al centro di un incontro venerdì prossimo a Catanzaro, nella sede del Dipartimento Sanità della Regione. I dipendenti dell'azienda, ricordiamo, hanno costituito un comitato e da tempo evidenziano la loro preoccupazione per la mancata liquidazione da parte dell'Asp di Cosenza di un credito di 2 milioni e 850 mila euro maturato il 31 dicembre scorso. Alla riunione parteciperanno il direttore generale del Dipartimento Antonio Orlando, il presidente della Commissione regionale sanità Nazareno Salerno, i consiglieri regionali Carlo Guccione e Giulio Serra e i sindaci di Acquapese e Guardia Piemontese, nonché il consigliere provinciale di Cosenza Giorgio maritato ed una folta rappresentanza di lavoratori. Rimanendo sempre in ambito politico, diciamo che oltre 500 interventi finalizzati alla costruzione di nuove opere pubbliche e alloggi per categorie sociali svantaggiati sono stati bloccati. E quanto sostengono i consiglieri regionali di minoranza Carlo Guccione, Bruno Censore e Ferdinando Aiello in un'interrogazione al presidente della Giunta Giuseppe Scopelliti. I consiglieri chiedono di sapere quali iniziative urgenti e concrete si intendono assumere per sbloccare le ingenti risorse economiche sospese dal dirigente generale ai lavori pubblici Laganà, impedendo alla totalità dei sindaci che hanno ricevuto da parte della Regione tra febbraio e marzo del 2010 regolare decreto di finanziamento e hanno provveduto a mettere in itinere la procedura amministrativa, così come previsto dallo stesso decreto di finanziamento inviato dalla Regione. E ritorniamo ad Aiete invece e continuiamo il nostro viaggio nei comuni che stanno avviando grazie ai finanziamenti regionali, la raccolta differenziata e la costruzione di isole ecologiche. Vediamo come si sta organizzando proprio il piccolo ente montano di Aieta. Entro maggio Aieta dovrebbe avere la sua isola ecologica. A riferirlo è il primo cittadino del piccolo comune montano altotirrenico, Gennaro Marsiglia. Sabato scorso, ha continuato il sindaco Marsiglia, abbiamo ricevuto i nulla aosta necessari e presto provvederemo ad appaltare i lavori. La nuova isola ecologica sarà realizzata con un finanziamento regionale di ben 110.000 euro e sorgerà in località San Vito di Aieta. Un passo in avanti importante per l'ente montano che con il 34,42% di rifiuti differenziati, come riportato nel rapporto sui rifiuti dell'Arpacal, è uno dei comuni più virtuosi della Calabria, nonché uno degli enti con la tariffa Tarsu più bassa d'Italia, ovvero solo 60 centesimi al metro quadrato, rispetto ad una media che anche per gli enti montani limitrofi e non e le piccole comunità si aggira attorno ad 1,07 euro al metro quadrato. Un risultato di cui il nostro comune può essere fiero, ha chiusato il primo cittadino di Aieta, Gennaro Marsiglia, a proposito del rapporto sui rifiuti in Calabria dell'Arpacal. Merito di tutti gli aietani che hanno dimostrato senso civico e comprensione verso questo strumento importante per la tutela dell'ambiente. Lo stesso sindaco però ha anche voluto sottolineare che in una piccola realtà come quella di Aieta la raccolta differenziata non apporta enormi benefici economici. Questo perché, ha continuato Marsiglia, non parliamo di un'area estesa o che ha un'economia di scala e che quindi non può sperare in grandi quantitativi di spazzatura raccolta. Certamente non possiamo fare solo un calcolo meramente ragionieristico, conclude il primo cittadino dell'ente montano altotirrenico. La raccolta differenziata rimane l'unico strumento a nostra disposizione per abbassare notevolmente gli sversamenti in discarica dei nostri rifiuti. E speriamo vivamente che anche con il prossimo rapporto dell'Arpacal, Aieta dia sempre questo alto esempio di civiltà e di rispetto per le regole. E Calabria è in ottima salute nella vendita a domicilio e quanto rileva Univendite, l'Unione Italiana Vendite Dirette. Il fatturato dell'anno scorso ha toccato la cifra di 824 milioni di euro, il 9% in più rispetto al 2009. La Calabria ha dimostrato il proprio dinamismo facendo registrare oltre 51 milioni di euro di fatturato. Inoltre in costante e robusto aumento ha anche la forza vendita. Gli incaricati delle aziende Univendita del 2010 hanno superato le 52 mila unità. Di questi oltre 3 mila addetti alla vendita operano in Calabria, ossia il 6% del totale nazionale. La Calabria è un libro aperto. Questo il titolo scelto dall'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri che ha curato l'allestimento del programma degli eventi discussi nel corso della seconda giornata della fiera dei ragazzi di Bologna. Oltre agli editori specializzati in editoria per ragazzi in forma a una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale. Vengono esposti anche i testi delle edizioni Periferia, La Ruffa, La Città Illustrata, Edizioni Corab, Luigi Pellegrini, Editore, Caleidon, Editrice, Mediterranean, Media, Rubettino e Monte Leone. E rimanendo sempre in tema di libri andiamo a Diamante dove la scrittrice Nadia Forte ha presentato Naia, disse il libro che ha scritto per illustrare la tecnica di massaggio che promette di parlare all'anima oltre che al corpo. L'autrice ci spiega tutto nel servizio del nostro direttore Pietro Nigro. Nadia Forte interviene a Diamante per presentare il suo secondo libro e per contribuire allo sforzo dell'amministrazione comunale per rilanciare la fruibilità e l'utilizzazione del parco. L'occasione si presta però anche per aprire uno squarcio interessante su un libro atipico, su un libro originale, che propone un metodo per riscoprire se stessi che l'autrice, guarda caso, ha sperimentato su se stessa prima di proporlo agli altri. All'origine del libro un'esperienza personale tragica, un brutto incidente stradale dal quale si è ripresa tra l'altro proprio scoprendo quello che poi ha trovato nel libro. A 21 anni ho avuto questo incidente che quel salto nel buio, nel vuoto mi ha praticamente risvegliato il corpo spirituale e i miei cinque sensi. Mi sono trovata di colpo in una nuova realtà fatta di incontri contrapassati, apparizioni di angeli e visioni di organi durante le ore di lavoro. Il mio lavoro è massaggiatrice e magari intravedevo per qualche secondo un fegato, un cuore. Quindi era una realtà pesante da vivere per i miei vent'anni. Intorno ai trent'anni però, stremata, pensai come potevo fare per liberarmi da quello zaino così pesante, iniziai a scrivere. Nasce così il primo libro, un'esperienza di fatto autobiografica. Sì, infatti. E nello stesso tempo, involontariamente, inconsapevolmente, iniziai ad entrare dentro un cammino interiore, un cammino di crescita interiore molto intenso, fatto di meditazioni quotidiane. Era un po' come bussare alle porte della mia anima e chiedere cosa dovevo fare di tutto questo materiale. Iniziai a capire che il mio massaggio poteva, potevo durante il massaggio incontrare l'anima della persona, cercare proprio di portarla, portare la persona a una consapevolezza diversa, a un ascolto interiore, per far sì che chiunque venisse nel mio studio potesse far uscire il suo potenziale, la sua forza, la sua essenza. Ed è partito il concorso fotografico Clicchiamo, destinato ai pazienti affetti da sclerosi multipla e ai loro parenti o amici. Il concorso quest'anno premierà gli scatti dei più belli ed evocativi angoli del nostro Paese per veicolare il messaggio che si può vivere oltre la sclerosi multipla. La partecipazione al concorso, giunto ormai alla sua quinta edizione, è gratuita. Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno inviare tre fotografie legate al tema del concorso a partire dalle ore 12 del 28 marzo 2011 fino alle 12 del 28 giugno 2011. Un'apposita commissione nominata dalla Fondazione Cesare Serono decreterà i vincitori e la premiazione si svolgerà nel mese di luglio del 2011. Con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv, ma prima di lasciarvi qualche appuntamento per domani. Alle 10.30 a Cosenza, presso l'Aula Magna Unica, l'assemblea promossa dall'Associazione Ateneo Controverso sui temi della riforma Gelmini. Sempre a Cosenza, alle ore 11, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzzi, c'è la presentazione della campagna di promozione e valorizzazione dell'isola pedonale, voluta dall'amministrazione comunale. A Maratea, invece, alle ore 16, presso l'hotel Pianeta Maratea, incontro delle proloco Calabria e Lucane per discutere del progetto Porta del Golfo. Confermata la presenza all'incontro di esponenti politici di rilievo, quali il presidente della regione della Basilicata, Vito De Filippo, l'assessore al turismo della regione Basilicata, Erminio Restaiano, il consigliere della regione Calabria, Gianpaolo Chiappetta. Con questo è davvero tutto da parte di Martino Ciano e la redazione giornalistica di Rete3, vi auguriamo una buona continuazione con i nostri programmi. Ringraziamo anche il Lino Russo che ci ha assistito alle telecamere in studio e Antonello Gazzaneo alla regia. Con questo è davvero tutto, grazie per la cortese. Attenzione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!